Quali sono i diversi sintomi dell'aneurisma cerebrale? Gli aneurismi cerebrali si verificano quando i vasi sanguigni nel cervello si indeboliscono e si gonfiano mentre si riempiono di sangue. Gli aneurismi possono essere congeniti o acquisiti più tardi nella vita a causa di fumo, uso di droghe, gravi lesioni alla testa, vecchiaia o una serie di altre possibili cause. La maggior parte degli aneurismi cerebrali sono piccoli e non causano mai sintomi evidenti. Un grande rigonfiamento, tuttavia, può causare dolore alla testa e agli occhi e possibilmente disturbare la vista. Gravi problemi si verificano quando gli aneurismi si rompono, causando intensi mal di testa, nausea, convulsioni, coma o addirittura la morte se non trattati immediatamente. I sintomi specifici dell'aneurisma cerebrale dipendono dalla posizione e dalle dimensioni del vaso sanguigno in movimento. Se una nave non curata cresce abbastanza grande da esercitare pressione sui nervi e sul tessuto cerebrale, una persona può provare un dolore cronico alla testa nell'area colpita. I più comuni sintomi dell'aneurisma cerebrale non distrutti includono dolore appena sopra le orecchie o dietro un occhio, visione sfocata o doppia e dolore al collo. Se i nervi sono compressi, una palpebra può abbassarsi o una parte del viso può sentirsi nervosa o insensibile. È importante visitare un medico o un pronto soccorso quando si verificano possibili sintomi di aneurisma cerebrale. Un medico può utilizzare raggi X e altre scansioni di immagini per identificare i vasi sanguigni anormali e prevedere la probabilità di una rottura. Se un aneurisma sembra essere stabile, un paziente può semplicemente aver bisogno di assumere farmaci antidolorifici e programmare controlli periodici per monitorare i cambiamenti. Smettere di fumare, fare esercizio e mantenere una dieta sana può aiutare a ridurre la probabilità di una rottura. Sintomi di aneurisma cerebrale intensi e potenzialmente letali si verificano quando un'arteria si rompe nel cervello. Immediatamente dopo una rottura, una persona di solito sviluppa un mal di testa debilitante, nausea, vomito e confusione mentale. Un individuo può anche perdere la sensibilità sul viso, sul busto o sulle estremità. Inoltre, rotture di aneurisma in alcune parti del cervello possono causare perdita della vista e convulsioni. È essenziale contattare i servizi medici di emergenza quando una persona presenta sintomi di aneurisma cerebrale per prevenire perdita di coscienza e morte. I pazienti che soffrono di aneurismi rotti in genere hanno bisogno di un intervento chirurgico di emergenza per fermare l'emorragia e prevenire il coma. Un chirurgo taglia nel cervello e sigilla l'arteria con morsetti o punti. Una volta controllato il sanguinamento, è possibile posizionare uno stente all'interno della nave danneggiata per assicurarsi che non si rompa di nuovo. I pazienti che presentano sintomi di aneurisma cerebrale vengono di solito tenuti in ospedale per diverse settimane per riprendersi. La prospettiva dipende dal danno causato dalla rottura e dall'efficacia della chirurgia. I danni permanenti al cervello o la paralisi sono possibili complicazioni, ma la maggior parte dei pazienti alla fine è in grado di tornare ai normali livelli di funzionamento cerebrale e attività fisica.